Un avvocato salernitano di 33 anni è stato arrestato per stalking nei confronti di un suo collega coetaneo. L'arresto è seguito dagli agenti della volante della questura di Salerno diretti dal vicequestore Rossana Trimarco e avvenuto ieri sera in una via del centro. Gli agenti sono intervenuti su richiesta della vittima che aveva segnalato l'ennesima aggressione verbale da parte del collega che lo aveva bloccato nella sua auto impedendogli di uscire per recarsi nello studio legale. I poliziotti hanno bloccato l'aggressore che continuava intanto ad inveire contro il collega urlandogli parole offensive e denigratorie. Solo a seguito dell'intervento degli agenti la vittima è riuscita a scendere dall'automobile e a recarsi in ufficio per dedicarsi alla sua attività lavorativa, non prima però di aver sporto denuncia a querela nei confronti dell'aggressore. Secondo gli accertamenti svolti dalla polizia, già altre volte l'avvocato salernitano aveva denunciato il collega per stalking e negli ultimi mesi l'aggressore aveva tormentato il collega con telefonate a tutte le ore, messaggi, mail ed sms ingiuliosi e minatori, tanto da spingere la vittima a sporgere querela lo scorso 17 febbraio. Ieri l'epilogo della vicenda con l'arrivo sotto lo studio del suo collega, dopo vari sms e telefonate in mattinata. L'arrivo della polizia ha messo fine all'aggressione. L'arrestato è stato poi condotto al carcere di Salerno a disposizione dell'autorità giudiziaria.